ariete attento a non farti prendere troppo dall'entusiasmo soprattutto al lavoro giove ti aiuterà a ponderare ogni scelta in maniera concreta e razionale toro il momento astrale senza dubbio positivo dovrai solo cercare di trovare opportunità dove oggi vedi solo problemi marte ti darà la convinzione necessaria gemelli impegni di famiglia condizioneranno il tuo tempo i tuoi impegni la tua giornata non puoi esimerti ma certo non sono impegni che ti fanno fare salti di gioia cancro marte mercurio oggi sono per l'out out dentro o fuori che poi si sa si chiude una porta e si apre un portone leone è tempo di rimandare ogni impegno restare a casa a riposarsi e prendersi cura di sé vergine problemi pratici ovvero oggi avrai molto a che fare con imprevisti domestici a fine giornata sarai semplicemente sfinito bilancia hai accumulato tante di quelle pendenze professionali e personali che oggi non saprai da dove cominciare marte ti aiuterà a pianificare la battaglia contro il tempo scorpione luna nel segno illumina lati oscuri su cui fino ad oggi non hai volontariamente voluto far luce desideri progetti sentimenti che oggi verranno a galla sagittario luna eccezionale porta solo ottime possibilità e risultati in ambito amoroso e professionale capricorno non sarà giornata di cuori che battono ma di cuori che pensano e così fino a sera tanti torneranno single acquario i successi di una giornata ricca di soddisfazioni e conferme troveranno a letto il modo migliore per farsi festeggiare e diventare memorabili pesci oggi realizzerai esattamente che fai quello che hai sempre desiderato fare con passione ed entusiasmo grazie a tutti